Ciao ciao, dunque, allora avete capito che ho intervistato Mr. Nipilista, cioè Enrico Capaci. E' stata un'intervista molto piacevole, devo dire la verità, mi sono divertita molto. Anche se devo dire che il vicino lavorava moltissimo con il trapano, che riuscivo a sentire anch'io da Colonia, da dove parlavo appunto. E niente, è stata un'intervista molto interessante, spero anche per lui. Io in genere mi preparo sempre delle domande, poi intervisto le persone. Se siete disponibili, l'unica cosa che si è vero, il mio canale è un po' come i miei capelli, è piccolino, è tutto distrutto, è tutto sconfusionato, molto caotico. Non riesco a metterci nel capo né coda, ma è una creazione artistica, per cui è un po' a luna. Va a luna e quindi niente, cercherò di fare un video al giorno nel limite del possibile e ne caricherò uno al giorno appunto. Ma come interviste forse andremo un pochettino più lenti, perché comunque sono molto lunghe. Quella con Enrico è stata tipo di 30-38 minuti, mi sembra, se ho letto bene. Quindi ci vuole molto tempo. Questo è quanto volevo dirvi oggi, vi saluto tutti e un bacio.